E' Avellinese il nuovo presidente dei dentisti italiani. Si tratta di Raffaele Iandolo, eletto grazie all'ampio consenso raccolto dalla lista Unità e Collegialità. Iandolo ha tenuto una conferenza stampa insieme al presidente dell'Ordine dei Medici di Avellino, Francesco Sellitto. In Italia ci sono 62 mila odontoiatri, quindi 62 mila dentisti. Ad Avellino noi abbiamo 330 iscritti, quindi meno dell'1%. E comunque per Avellino è un fatto effettivamente straordinario, cioè avere il presidente nazionale dell'Albo dontoiatri dopo tanti anni di lavoro e dopo tanti anni di impegno dal punto di vista ordinistico sicuramente per l'Ordine dei Medici di Avellino è un fatto eccezionale. Tra i punti del programma la lotta a chi esercita abusivamente la professione. Noi abbiamo l'obbligo di tutelare soprattutto la sicurezza nell'esercizio professionale e soprattutto l'esercizio legale della professione. In quest'ambito annuncio che c'è una novità importantissima, cioè l'approvazione a fine legislatura della legge cosiddetta Lorenzin che prevede delle sanzioni durissime per l'esercizio abusivo della professione. Il neopresidente ricorda anche la figura di Ugo Masucci, noto dentista vellinese recentemente scomparso in circostanze ancora da chiarire. Ugo non solo era un collega ma era un grande amico, era presente a tutti i nostri eventi e è sempre nel nostro cuore. Nel senso che noi siamo rivolti sempre con attenzione prima di tutto ad accertare i motivi che hanno portato a questo tragicamento, ma soprattutto a ricordare un grandissimo professionista, una persona raffinata, elegante e che sicuramente ha dato lustro alla nostra professione.